Allora ragazzi qui siamo allo stand LG dove hanno presentato i MOS X e abbiamo LG X-Tiler, un telefono molto piccolo e compatto, ovviamente siamo parlati di un medio gamma qui abbiamo plastica, abbiamo un display che è 5 pollici, risoluzione HD una fotocamera posteriore che è da 8 megapixel e quindi già da qui capite il range del mercato dipenderà questo telefono, la frontale è da 5 megapixel, abbiamo un processore 1.3 GHz 1.5 GHz, 2100 mAh batteria, 6.9 mm dello spessore abbiamo un tema di X-Men che è uno degli sponsor qua dello stand LG dove fanno vedere tutto quello che è il panorama X-Men è un telefono che gira abbastanza bene, ovviamente è scarico di tutte le varie applicazioni e uno potrebbe mettere quotidianamente e però insomma dobbiamo dire che il display è molto bello perché essendo un display risoluzione HD potrebbe essere un entry level per tanti ragazzi che si affacciano per la prima volta al mercato ma soprattutto al panorama Android appoggiamo un attimino X, X-Style, eccolo qua, andiamo a riporre nel suo reggiano da abbiamo X-Match e X-Power, poi abbiamo il tablettino anche sempre della serie X se giriamo intanto, certo, non ci seguo, abbiamo LG X-Max che è forse una delle sorprese ecco, su questo stand abbiamo sempre la formazione nera intanto vi farò vedere le caratteristiche, abbiamo 5.5 pollici, display sempre HD mantiene un profilo di vedere molto sottile da 7.2 mm una batteria si può ampliare, abbiamo una 2800 mAh e la fotocamera, quella nella parte posteriore da 13 megapixel con il LED flash ovviamente abbiamo la pantalla LTE mentre quella frontale, che è posta qua nella parte sinistra abbiamo una fotocamera da 5 megapixel sempre un giga e mezzo di RAM e potrebbe essere uno dei punti critici su un display così grande e abbiamo ovviamente sempre la possibilità di andare a espandere la nostra memoria di sistema tramite una microSD appoggiamo anche lui qui da una parte fino ad andare a fare un film per tocco dello stand vedete c'è la colorazione bianca, sempre di X-Match di X-Max, scusate, di X-Match è il video che abbiamo qui accanto andiamo a saltare un po' di persone questo è X-Power, eccolo qua particolarità lo dice anche il suo nome, la batteria stiamo andando a 4.500 mAh con supporto l'OTG con display 5.3 pollici, con soluzione HD la fotocamera frontale è la classica 5 megapixel mentre per quanto riguarda la posteriore abbiamo una 13 megapixel supporto la ricarica rapida, come lo dice anche lo stand qua abbiamo una ricarica molto rapida, un fast charging con una batteria da 4.100 mAh direi che il terminale è molto bellino ovviamente stiamo parlando di tutti i pediogrammi ma adesso andremo a vedere l'auto, l'autodigrama, lo stand è leggero prego